Non l'ho visto. Poi abbiamo un Bracco, dopo vi parlo anche degli altri. Abbiamo un cane Corso, abbiamo un Maremmano Bruzzese e abbiamo un Mastino Napoletano. Chi non conosce il Mastino Napoletano? Guarda, quello è liceo al rabo. Grazie, carino. E quello è liceo al rabo. Le razze italiane abbiamo...